Come è stata la campagna elettorale? Il vostro programma elettorale è stato spiegato bene ai valdostani e come si rapporta il vostro programma con quello che ha presentato la Meloni a livello nazionale? A livello nazionale c'è un filo diretto che conduce i due programmi avanti, voi siete in sintonia con la Meloni? Sì, c'è comunque un programma di coalizione per cui assolutamente sì. Cosa è stata la parte più bella della vostra campagna elettorale? Sicuramente il contatto con le persone perché abbiamo girato tutto il territorio e quindi è stata una campagna molto interessante. Al di là della campagna elettorale diciamo che sono anni che voi lavorate, vi impegnate per la Valle d'Aosta, per l'autonomia anche e soprattutto. Avete già avuto un'esperienza anche di governo regionale, diciamo tutto questo ha influito per arrivare a portare a casa questo risultato? Sicuramente sì, anche perché ricordo che fino al 2015 non avevamo neanche un consigliere comunale, 2015 due consiglieri comunali, poi 7-11 come consiglieri regionali. Adesso questo risultato è stato costruito passo a passo, poco alla volta, facendo capire ai valdostani quello che noi vogliamo portare avanti e quello in cui crediamo.